Cristian Desio, Francesco Di Sanza, smaltita la festa, tra virgolette, della vittoria di Castellabate, partita nella quale doveva emergere il carattere e soprattutto la testa, la testa per non sottovalutare l'avversario. Sì, come hai detto tu, questa era una partita che doveva essere giocata di testa e penso che alla fine il risultato ci dà ragione. Infatti abbiamo fatto una partita concentrata dal primo minuto, anche se abbiamo incontrato alcune difficoltà, però con la compattezza del gruppo siamo riusciti a venirne fuori. Francesco, esordio per te con la maglia della tua città, partiamo dal tuo punto di vista personale sulla tua prestazione. Tutti ne hanno parlato bene, tu come ti valuti? Diciamo che come esordio ci sta quella cosa di far bene, di farti notare. Poi è sempre bello giocare per la maglia, per i due amici che stanno sugli spalti, che ti sostengono. Diciamo che te la senti più tua, più addosso e sicuramente darai il massimo per questo. Cristian, dicevamo, bestia nera, tu hai un ricordo tutto particolare di quella partita di Giffoni, del play-off, però insomma sono cambiate un bel po' di cose. Dall'altra parte c'è una Giffonese che non è adesso, almeno per il momento, tra le favorite per le zone alte della classifica, però come per la partita di Castellabate bisognerà giocare prima con la testa e poi con le gambe. Vabbè sì, quello sicuramente. Io, la verità, non ho avuto modo di vedere la Giffonese ultimamente, però mi è arrivata comunque una voce che, nonostante abbia zero punti in classifica, comunque è una squadra che va affrontata in maniera un po', come dire, cattiva. Per il resto sì, al di là dei ricordi che mi può dare questa partita, noi cercheremo comunque di affrontarla come facciamo con le altre. Pensiamo partita singolarmente, una alla volta e cerchiamo di portare quanti più punti possiamo in casa. Flash, battuta finale per te, primo campionato tra i grandi, però insomma in questo gruppo è facile ambientarsi presto, è facile calarsi presto nella giusta mentalità. Sì, diciamo che il campionato è differente, comunque vengo da un campionato di juniores, quindi qui c'è bisogno di metterci più cattiveri in campo e fare tutto per fare gol, diciamo non sbagliare davanti alla porta perché i punti potranno pesare. Col gruppo benissimo, mi trovo bene per ora, comunque sono ragazzi che già conoscevo la maggior parte e poi anche altri ragazzi che ho conosciuto adesso mi hanno accolto benissimo.